Cos'è che non vi torna nel bilancio del Comune di Teramo? Noi abbiamo evidenziato il fatto che nel rendiconto 2014 si evidenzia appunto una situazione malsana, una gestione malsana degli ultimi dieci anni di questa giunta di centrodestra, perché abbiamo notato che sono stati inseriti nel rendiconto 2014 circa 6 milioni di euro che sono serviti comunque per chiudere questo bilancio, ma poi nel 2015 viene detto che questi 6 milioni di euro sono sostanzialmente crediti inesigibili e quindi inesistenti. Non capiamo quali sono i documenti giustificativi di questa operazione e per questo motivo noi chiediamo un parere alla Corte dei Conti. Però inesigibili non è la stessa cosa che inesistenti? Loro non hanno fornito alcun documento appunto e per questo noi stiamo scavando e andando oltre, però in ogni caso loro hanno cancellato appunto circa 6 milioni di euro senza dare nessuna giustificazione né in Commissione né in Consiglio Comunale e per questo noi chiederemo questo parere alla Corte dei Conti. Non pensa che quello dei crediti inesigibili sul bilancio in questo momento sia forse l'ultimo dei problemi di questa amministrazione? Assolutamente no perché con questo modo di fare loro hanno prolungato comunque l'agonia di questo comune e hanno, mentre nel caso contrario sarebbero trovati ad assumersi le loro responsabilità e evidentemente potrebbero anche arrivare al punto di doversi dimettere. Quindi è questo il problema veramente grande, poiché se bocciato dalla Corte dei Conti questo rendiconto sarebbe veramente una grande spina nel fianco all'interno di questa amministrazione.